Siamo nel Castello di Coloredo di Montalbano, stiamo andando ad un concerto, concerto di tango, jazz e musica da film e incontriamo una meravigliosa mostra, piccola ma veramente interessante, di arte. E qui, in mezzo alle opere intitolate I Frattali, troviamo l'amico Stefano Perez, che è un importante artista italiano, pittore ma anche filosofo. Cosa rappresentano queste opere? Queste opere rappresentano i movimenti che fa la danza, le immagini che crea, che uno può vedere con una fantasia. Vediamo se riusciamo a vedere queste immagini. Eccole qua. I movimenti della danza, quindi, della musica e della fantasia. E cosa vuol dire Frattali? Frattali è un'immagine che nasce casualmente. Io ho verso i colori sul porto, questi colori si combinano, creando quelle immagini che vediamo qua. Frattali significa speziato, frazionato il termine. Sono immagini che nascono fuori dalla casualità. E adoperi anche una lampada per fissare i colori, poi? La metto sotto il quadro. Ah, sotto la tela, sotto il supporto. Sotto il supporto metto... Che si scalda e quindi i colori corrono e si formano a certa casualità. E poi ne studi la frammentazione. Ecco, questo è un caro amico, un importante pittore, che ha esposto anche in importanti mostre in Italia, ma anche all'estero. Quindi è un pezzo grosso dell'arte contemporanea italiana. E con questo vi saluto e vado al concerto.